Dunque cala il sipario sul campionato del Delfino, agonia finalmente terminata. La retrocessione deve rappresentare un'opportunità ripartendo però da basi credibili. Chiarezza di idee e programmi per invertire una deriva molto pericolosa. Tornare a fare calcio specie in C diventa imprescindibile. Servono, lo ribadiremo, sino alla noia organizzazione scouting e attribuzione senza interferenze di responsabilità e competenze. Non si può più improvvisare. Stagione nefasta, a certificarlo i numeri, a dir poco impietosi. 32 punti, penultimo posto, appena 29 golfatti. Attacco meno prolifico al pari della Cosenza, ben 60 subiti. Poco meglio, si fa per dire, della Cenerentola in Tella con 64. In B dal 2010-2011 il Pescara ha fatto peggio solo nel 2017-2018. 64 reti subite ma su 42 giornate di campionato. In due stagioni i gol incassati sono stati 115. Negli ultimi nove campionati cadetti il Delfino ha subito meno di 50 reti solo con Di Francesco nel 2010-2011, 48 in 42 incontri e con Bepi Pillon nel 2018-2019, 46 in 36 gare. In 34 tornei di B disputati dal 1974-75 è la sesta formazione del Delfino ad aver preso più gol. Maglia nera alla Pescara edizione 2006-2007 con ben 77 reti al passivo in 42 partite. È stata anche l'ultima retrocessione in C prima di quella attuale. Anche in quell'occasione tre allenatori, Ballardini, Ammazzalorso, Vivarini. Ancora più eloquente il dato relativo ai gol fatti. Appena 29 come il Cosenza nei 34 campionati di B il terzo attacco meno prolifico del Delfino. Peggio hanno fatto il Pescara edizione 1975-76. L'allenatore Tom Rosati con 25 reti e il Pescara edizione 1981-82. Allenatori Malatrasi, TD a Chiappella con 20 gol. Da gennaio 2020, dopo la gestione Zauri, 26 punti in 20 gare, 60 partite giocate, Coppa Italia e play-out compresi. Col seguente bilancio, 31 sconfitte, 12 vittorie e 17 pareggi. Lo score dei tre allenatori, Oddo 4 punti in 9 gare, Breda 13 in 14 partite, Grassadonia 15 punti in altre tante sfide.